Bene, grazie dottoressa, buongiorno a tutti, un saluto a tutte le persone e le istituzioni collegate in questo momento. Sono veramente contento di essere con voi oggi in questo evento, testimonianza in una fase oggettivamente complessa di vicinanza e impegno sul territorio. Un impegno peraltro che si consolida con l'apertura di questa nuova sede d'Ancona, che ci vede lavorare in forte sinergia con il gruppo CDP al fianco di oltre 700 imprese. Come sa, ci siamo ormai presenti nelle Marche da quasi 10 anni, con un nostro ufficio ad Ancona, peraltro dal 2017 all'interno della Confindustria Marche, proprio a testimonianza ancora una volta della forte cooperazione tra istituzioni e al servizio del Paese. E approfitto per salutare e ringraziare in particolare il Presidente Schiavoni per la collaborazione di questi anni. Una collaborazione sicuramente proficua, l'abbiamo portata avanti a più livelli con le istituzioni bancarie e finanziarie, con cui lavoriamo per facilitare l'accesso delle imprese alle risorse necessarie per la crescita, con le associazioni di impresa con cui condividiamo quotidianamente il lavoro sul territorio, essenziale per il nostro mestiere, un lavoro che è fatto di confronto e di ascolto reciproco e continuo. E naturalmente con CDP, il suo gruppo, alle quali ci lega una storia comune, una capacità di intervento importante, grazie al quale in sinergia sempre molto forte possiamo veramente fare la differenza per incrementare la competitività delle imprese italiane sia sul mercato domestico che su quello internazionale. Indubbiamente è un periodo di grande complessità in cui a un contesto di crescita debole si sono aggiunte purtroppo le conseguenze della crisi pandemica con impatti che sono evidenti su tutto il sistema economico. E questo è particolarmente vero per una regione come le Marche, con un'altra concentrazione di piccole e medie imprese, spesso organizzate in filiere altamente interconnesse e attive in comparti chiave della manifattura italiana. Eppure, nonostante la severità di questo shock e nonostante l'incertezza che tutt'oggi viviamo nell'evoluzione dell'emergenza sanitaria, vediamo i presupposti per una ripartenza. Una ripartenza che non potrà che essere trainata da quei grandi fattori di resilienza che sono l'export e soprattutto le nostre eccellenze settoriali. Quel made in Italy che qui nelle Marche conta su tantissimi testimonial di successo, soprattutto piccole e medie imprese, con molte dei quali lavoriamo da tempo in diversi settori, l'arredo, il design, l'agroalimentare, penso ad esempio a Fileni, un'eccellenza del bio italiano che abbiamo supportato recentemente con un positive loan e che incontreremo in una testimonianza in questo evento. Settori delle peracchiature elettriche, degli elettrodomestici, un nome fra tutti, Ariston Termo Group che abbiamo supportato nei piani di crescita all'estero, o l'abbigliamento o il calzaturiero. Settori che sono espressione della qualità e della tradizione di questa regione, a cui aggiungerei senz'altro anche il turismo, che trova in questa bellissima regione un grande terreno di opportunità, in cui l'italianità è sinonimo riconosciuto a livello globale di qualità, di affidabilità e di creatività. Parliamo di imprese radicate in questi territori che si ramificano attraverso filiere e distretti per poi proiettarsi sui mercati internazionali. Ed è da qui che dobbiamo ripartire, con un ruolo dell'export che sarà sicuramente propulsivo. Le Marche sono una regione esportatrice, la nona in Italia, con oltre 12 miliardi di esportazioni nel 2019 e con un grande potenziale ancora da esplorare. Dopo lo shock inevitabile del 2020, crediamo che il 2021 sarà un anno di ripresa anche per la regione Marche, una ripresa trainata da quelle eccellenze settoriali di cui ho parlato poco fa e a cui sicuramente aggiungerei anche la meccanica e la farmaceutica. Ma in questa risalita non basterà la sola forza dell'export, serviranno infrastrutture non solo fisiche ma anche digitali capace di colmare un gap importante di competitività verso i nostri peers globali, ma servirà anche un approccio trasversale all'insegna della sostenibilità, una leva ormai imprescindibile per una crescita di medio e lungo periodo. E noi siamo naturalmente pronti a fare la nostra parte al fianco sia delle grandi aziende sia delle piccole e medie imprese che sono alla base del made in Italy e dell'export marchigiano. Due parole sulla nostra offerta. In primo luogo un'offerta assicurativa o finanziaria integrata con un elevato grado di digitalizzazione sviluppata nel tempo in grado di accompagnare le imprese in ogni fase del percorso di internazionalizzazione e promozione dell'export, l'attività che è poi nel cuore del nostro DNA. Questa operatività ci ha consentito quest'anno di mobilitare risorse per circa 25 miliardi di euro solo nel 2020, in crescita nonostante l'avversità del contesto. A questa, lo sapete, si sono aggiunti gli strumenti governativi messi a disposizione quest'anno di Sace che hanno ampliato il nostro mandato per il sistema paese, strumenti pensati per sostenere le imprese nella fase di emergenza con Garanzia Italia che ci vede impegnati in stretta partnership con il sistema bancario per rispondere alle esigenze di liquidità delle imprese colpite dal Covid-19 e che ha consentito ad oggi di erogare finanziamenti supportati dalla nostra garanzia per oltre 21 miliardi di euro. Pensate che complessivamente nelle Marche, dove siamo al fianco di ben oltre 700 imprese, abbiamo mobilitato 340 milioni di euro di risorse destinate a sostenere investimenti a medio-lungo termine per l'export e supportare la liquidità tramite Garanzia Italia. Strumenti pensati anche per la fase di ripartenza del sistema paese e che saranno cruciali per gettare le basi di un futuro di crescita e sostenibilità e da cui siamo partiti per la definizione del nostro piano industriale ormai in rampa di lancio con cui proietteremo Sace nel prossimo futuro. E lo faremo secondo tre traiettorie. Una prima traiettoria che va verso un maggior sostegno alle esportazioni grazie ad un sistema evoluto di coassicurazione tra Sace e il Ministero dell'Economia e delle Finanze il cosiddetto State Account che amplifica la possibilità di sostegno non solo per i grandi progetti ma anche per lo sviluppo dell'export per le piccole e medie imprese. Una seconda traiettoria che va verso il consolidamento di una nuova operatività anche post emergenza tramite un importante programma di garanzie pubbliche non più vincolate solo a progetti di export e internazionalizzazione ma anche progetti domestici a supporto del rilancio dell'economia nazionale. E infine una terza traiettoria trasversale rispetto alle altre ed entrata nel vivo proprio in queste settimane a supporto dei progetti di sostenibilità proprio grazie al ruolo attribuito alla garanzia Sace dal decreto semplificazioni. Nella direzione di favorire progetti di energia pulita, economia circolare, mobilità sostenibile abbiamo già incontrato oltre 200 aziende potenziali beneficiari della nostra garanzia green e peraltro perfezionato le prime poverazioni proprio in chiusura d'anno per quasi 600 milioni di euro. In conclusione sostegno all'export partendo dalle vocazioni settoriali nazionali quelle del made in Italy e delle filiere produttive un impegno trasversale per le infrastrutture e l'innovazione digitale e tutto questo per creare un sistema più competitivo e più sostenibile. Questo è in sintesi l'impegno che Sace con tutte le sue strutture sta mettendo in campo un impegno che inevitabilmente in questo momento è parte di uno sforzo collettivo e di sistema che ci vede tutti orientati, istituzione, finanza, imprese in un gioco di squadra diretto ad un unico obiettivo quello della ripartenza del nostro paese e per questo concluderei con un invito sincero a tutte le imprese e alle istituzioni delle marche a contare su di noi a restare connessi oltre questo evento a bussare alla porta di questa nuova sede ovviamente siamo a vostra disposizione per identificare insieme le migliori soluzioni per supportare il vostro business in Italia e nel mondo con la forza delle istituzioni che fanno parte di questa sede. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento e un buon lavoro. Grazie a tutti.